Grazie Presidente. Lo zero quorum è un principio che già fa parte della Carta Costituzionale. Prima, perché l'articolo 138 della Costituzione, su referendum confermativo, prevede che i referendum delle modifiche costituzionali siano sottoposti alla cittadinanza e anche se una persona va a votare può cambiare la Costituzione. Ora è vero che c'è stato un primo passaggio, però non è completamente estraneo al panorama costituzionale, quindi già questo ci fa capire dove ci stiamo muovendo. Tra l'altro le stesse elezioni politiche nelle quali poi si votano i rappresentanti eletti sono senza quorum. Nella democrazia rappresentativa non c'è il quorum, nella democrazia diretta sì, spiegatemi come sia possibile. Quindi tra i principi costituzionali presumibilmente lo zero quorum può rientrare. Ma perché può rientrare lo zero quorum e perché è importante lo zero quorum, Presidente? Prima di tutto, per il fatto come avevamo già espresso prima, per cui il Consiglio d'Europa già aveva raccomandato a tutti gli Stati membri che non vi siano disposizioni in merito al quorum all'interno del referendum e noi lo abbiamo recepito. E infatti il Segretariato ha riconosciuto, a mio avviso, anche qui la legittimità di questa enunciazione. Infatti dice, recita che è previsto nella dicimina del referendum, si ispira ai principi. La scelta di aderire agli inviti e agli ospici formulati da tale organizzazione è strana dall'Unione Europea ma a cui l'Italia aderisce, aderisce a fronte di un trattato, trattato ratificato dal Parlamento italiano. Quindi l'Italia in questo momento ha una legge con la quale aderisce al Consiglio d'Europa e le sue raccomandazioni che fanno parte delle fonti del diritto, certamente internazionale. Ecco, e qui tra le raccomandazioni c'è il ricepimento che noi facciamo. E perché c'è il ricepimento direttamente nello Statuto? C'è il ricepimento direttamente nello Statuto perché la disciplina in materia di referendum, la Costituzione, la demanda e ovviamente anche il TUEL, agli statuti degli enti locali che hanno autonomia normativa secondo il TUEL. Quindi questo di fatto è come se fosse un pieno ricepimento di una norma assolutamente legittimo. Tra l'altro la questione legata ai possibili contrasti. Anche qui il Secretariato, pur non emergendo, un espresso contrasto con norme specifiche. Quindi stiamo dicendo che il Secretario inizia tutta la sua discussione che non emerge un contrasto con le norme esistenti. Tra l'altro, in virtù delle osservazioni che sono state presentate, il Movimento 5 Stelle ha comunque per prudenza presentato degli emendamenti per riformulare alcune parti di testo del testo che ha presentato proprio per uniformarsi alla volontà, diciamo in questo senso, e alle osservazioni espresse dagli uffici, proprio per conformarsi a quei pareri, ex articolo 97, ex articolo 49, che sono stati espressi. Ma andiamo avanti. Possono andare a votare tre persone col senza quorum? Potenzialmente sì. È mai capitato? No, non è mai capitato. Perché non è mai capitato? In Italia, dal 1948 ad oggi, la media dell'affluenza delle votazioni popolari con quorum è stata del 52,35%, mentre quelle senza quorum del 58,17% vuol dire che quando viene abolito il quorum sono più le persone che vanno a votare, non di meno. Quindi l'abolizione del quorum promuove la partecipazione, non va a ridurla. Ma questo non lo dico io, lo dice il Ministero dell'Interno, direttamente nei dati elettorali. Quindi anche questo fatto è sconfessato da dati che sono comunque pubblici. In merito invece alla questione dei parametri vincolanti del quorum, anche qui la Corte Costituzionale, con sentenza 372-2004, ha rilevato che non si può considerare principio vincolante per lo Statuto la determinazione del quorum struttolare previsto dall'articolo 75 della Costituzione. Cioè il quorum al 51% nei referendum non è un parametro costituzionale, secondo noi e secondo la lettura che fa la Corte di questo. Però facciamo un passo indietro, perché dobbiamo capire se effettivamente i referendum comunali sono importanti da un punto di vista dell'abolizione del quorum. E allora, per capire se la Costituzione effettivamente andava in questa direzione, nelle premesse delle delibere, tra l'altro voglio ringraziare i municipi che hanno fatto un lavoro egregio su questo, producendo anche questi elementi che fanno parte anche di molte proposte, va detto, di legge, di delibere, insomma, che già sono in giro in questo momento. Ecco, con riferimento alla natura costituzionale del referendum a livello centrale, regionale e locale, bisogna vedere il dibattito dei costituenti del 46. E noi l'abbiamo citato, abbiamo citato direttamente nelle premesse della delibera. Che cosa dicevano i nostri costituenti, coloro che hanno padri costituenti che hanno costruito la nostra Costituzione italiana? Da reso conto sommario numero 56 della seduta del 30 novembre 46 della Commissione per la Costituzione, seconda Commissione, il Mortati, escludeva che vi fosse un parallelismo necessario tra l'indirizzo della legislazione statale in tema di referendum con quello della legislazione regionale. Inoltre, però, si riconosceva che può darsi che per la legislazione statale il referendum non abbia alcuna o abbia scarsa applicazione, il che non escluda affatto che nel campo più ristretto delle regioni e dei comuni possa avere vasta applicazione. In ultimo, con riferimento alla manifestazione della volontà generale, Zuccarini evidenziava che il popolo andrebbe considerato all'articolo 9 quale organo deliberante e come manifestazione di governo diretto. Tra l'altro, aggiungo io, in conformità dell'articolo 1 della Costituzione, che parla della sovranità popolare, per cui la sovranità appartiene al popolo. Quindi su questo il Movimento 5 Stelle ha fondato le basi, direttamente su quella carta costituzionale che prima è stata citata. Ma non solo. Noi abbiamo anche il decreto legislativo 156 del 2010, che parla proprio anche qui della possibilità di istituire compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione. Alcuni comuni d'Italia hanno già abolito il quorum di partecipazione, già sono e non sono commissariati, sono lì, hanno abolito e stanno utilizzando serenamente questi strumenti. Tra l'altro, nel parere del Ministero, si parla proprio che anche sulla validità delle votazioni, lo statuto sia autonomo. E anche su questo, voglio dire, anche sulla controproposta, la controproposta è un elemento di dibattito, non è un elemento di andare a snaturare comunque la proposta della cittadinanza. Quindi, lo zero quorum è un passaggio di civiltà per spiegare ai cittadini, soprattutto, che chi decide, chi può decidere, è colui che va a votare. Chi non vota, non decide. Se fosse passato questo principio, in Italia avremmo avuto molti più referendum, avremmo avuto molte più decisioni a livello locale, a livello centrale, avremmo avuto probabilmente una più ampia partecipazione dei cittadini anche alle elezioni. Perché nei comuni, nei cantoni, anche della Svizzera, si fanno veramente referendum ogni tre mesi e lì la partecipazione è alta? Perché non c'è il quorum. Perché il quorum diventa uno strumento di lotta politica per l'astenzionismo. Invece è giusto che i cittadini tornino ad essere responsabili del loro futuro e non delegare semplicemente ai rappresentanti del popolo attraverso un programma. Devono poter essere consultati, devono poter chiedere che vengano indette delle consultazioni. Questi sono i principi, Presidente, che hanno ispirato la proposta del Movimento 5 Stelle e fanno parte, tra l'altro, delle premesse della delibera. Da questo punto di vista abbiamo presentato degli emendamenti, comunque, e lo dico in conclusione, che vanno a recepire tutte le osservazioni del Segretariato e degli uffici, mantenendo ovviamente inalterato, a nostro avviso, la proposta e modificandone invece alcuni punti che invece potevano ritenersi necessari. Ma qui lo dico, la battaglia sul zero quorum non si ferma qui. Il Movimento 5 Stelle la porterà avanti, ne farà, diciamo, una sua applicazione concreta all'interno di questo Statuto e anche degli statuti delle altre città. Grazie. 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 Grazie.